Sovraffollamento nelle carceri, pestaggi negli istituti penali minorili, aumento del numero dei suicidi dietro le sbarre, difficoltà quotidiane dei lavoratori penitenziari. Una situazione divenuta nel 2024 sempre più allarmante anche in Sardegna, dove il coordinamento regionale delle comunità per l'accoglienza rivolte al mondo della detenzione ha predisposto un documento di analisi e proposta per favorire il rilancio e il potenziamento delle misure alternative al carcere. Noi vogliamo andare oltre e renderci disponibili nel meccanismo di servizio che con le comunità stiamo gestendo ormai da decenni. Richiediamo intanto che ci sia un'accelerazione e l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione, a seguire che anche i meccanismi che ha in atto la regione Sardegna possano diventare più agevoli per gestire il servizio di accoglienza nelle nostre comunità e che il sistema della giustizia, del tribunale di sorveglianza, agli UIEP e alle stesse carceri si mettono in coordinamento più attivo in modo tale che non passi troppo tempo per ottenere una misura alternativa alla detenzione e le nostre strutture possano adeguatamente essere riempite in continuità. Ascolto reciproco. Assolutamente, perché senza un meccanismo a cui teniamo molto come terzo settore, che è quello del coprogrammare, coprogettare, non ha senso stare nella stessa dimensione di servizio alle persone tra noi e il sistema pubblico istituzionale.